Salve onorevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio, siamo su Divinity 2 Ego Draconis Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati un attimo con un po' di missioncine ad Alto Borgo E ora finalmente possiamo scendere per il porto dei campioni, o come vi piace pare chiamarlo Vado in mente, direi che facciamo piano, non è una cosa intelligente Ah ok, sembrava un Arto, diciamo, ma che cazzo di Arto sta bene? Dai, c'è la possibilità di farlo, diventalo Oh, giù da che parlo Qui Diventa un drago, dai Non è bene, devo andare a camminare Serve più spazio Ora Porco giù, da ora ti do tutto lo spazio del mondo Ora Hai visto? Comunque quei due relitti li ho già visti, non hanno nulla di che Più che altro perché, ok, qui come vedete è una semplice via, non c'è nulla di che Ma quello che mi interessava era la piattaforma Se era possibile sempre raggiungerla Vedo questo dove mi porta Ah, questa è della Alto Borgo, la mappa è un po' sminchiata Ecco, lo sappiamo che ci sarebbe, ci si sarebbe potuti arrivare Ritrasforma Ok Qui abbiamo Grande avventuriero Jimmy D Che cazzo ci dice il grande avventuriero Jimmy D Un sigillo è un oggetto straordinario, non ho mai visto nulla di così complesso Non so chi sono gli altri tre che trasportino le parti mancanti Ma quando li troverò, nascerà il nuovo leader Jimmy Il tesoro sarà mio, tutto mio Già, come no Si vede che bella fine è fatto Ok, abbiamo fatto anche la parte 1 La pergamena Ok, noi quanti ne abbiamo? 2 Il terzo c'era la messaggera, ci manca il quarto fondamentalmente Ok, questo dove porta? Ok No, 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 lascia fare, lascia fare Ok, teoricamente si è un indotto Ripeto, teoricamente Qui è stranissimo fare tutte queste cadute senza subire nemmeno un minimo di danno È bellissima questa roba, è bellissima Su Vindivinity era possibile fare Sarebbe stato possibile concepire una roba simile Ok Quindi Continuiamo il nostro percorso verso il porto Ricordiamo che questa è una zona totalmente antidrago E non credo si possano spegnere, diciamo tra parentesi, queste zone Ciao stupido pescatore Vabbè, sicuramente prenderai molti pesci Nulla di che Nulla Vabbè interessante poter guidare una nave Ma dubito siamo arrivati a Vindivinity abbia queste Potenzialità Cioè abbia sfruttato quantomeno queste potenzialità Perché di fatto sarebbe stato molto interessante Ma che cazzo di voce hai una carota nel culo per parlare così, porco giura Hai una parte del coso, ok Ma che vi siete sduppiati? Mi ci sono sduppiati Io non capisco il cazzo se sono capito Non c'è l'ordine Non c'è l'ordine Non c'è l'ordine Non c'è l'ordine No Buonasera Sei un pescimendolo e ti chiami Luccio È destino Perché Luccio è un pesce Perché è capra? Pratt Non c'è l'ordine Non credo che Non c'è l'ordine Non c'è l'ordine Non c'è l'ordine Non lo metto in dubbio Mostrami le tue merce Le tue merce Le tue merci Pesce Pesce Vende pesce Vabbè Che cazzo pure io Che cazzo dove mi aspettavo da lui Non ho capito Mi rendi questa Mi rendi anche questa Visto che ci sei Visto che hai Potenzialità di commercio Perché non sfruttarle Corpo a corpo Distanza Magia Eh beh Questi sono meglio Dei nostri guanti Per il fine livello 18 Non saprei ancora Devo decidere bene Per ora Continuiamo in un altro percorso Allung the water Come dice brutto water Cioè ora non so se la mia Pronuncia è scorretta Però io mi regola Tipo in inglese Water Non water Vabbè è proprio brutto Comunque si dovrei seguire questo Però meglio non andarci Ora sapete com'è Non è che ultimamente Abbiamo degli ottimi Ottimissimi Rapporti Se vado giù No Su Che figata Tu che vuoi Il pilota dei dirigibili Oh Tu e i pezzi Tu chi sei? Un sacerdote? Perchè? Forse sono bloccati nel traffico È l'ora di punta In cielo Come hanno fatto abbattere Indirigibile Un drago Un drago? Un drago? Un drago? Come hanno fatto Come hanno fatto i goblin A conquistare il dirigibile? L'attacco È una sorpresa E' una sorpresa Queste sono Magica Composti Rutter Componenti E Hover Crystalli Ma i goblin Deci aver known About the soft spots Perché i loro partiti Per questi Vitals E non avete Pezzi di ricambio No No They only have Such scarce materials In the assembly Harbor In Rivertown But the Zeplins That actually Went down Were never Boarded So Their crystals And such She Should still Be there And Forcibly The Rex Would have Been picked Clean By Wyverns Those Pests Are regular Magpie If Something Reflect The sun It's In their Nest Moments Later Specily Recuperate I vostri oggetti Non в messed Ми kann So You Can Climb The Fjord And Shoot 習 At S tiempo Grazie a te la possibilità di aiutare. E se lo prenderai dopo tutto, io, per favore dei campioni, ti pagherò molto bene. Non lo credo! Bene, è fatto! Oh, sembra che avremo la nostra fletta in un'altra volta e in un'altra volta! Buon ora, Murlock! Certo. E se vedi un goblin, assurdo che sia il suo ultimo giorno, eh? Di nuovo in marcia. Ok, mi ha fregato tutti i pezzi. Che altro vuoi? Sicuramente mancherà tipo una bussola, mezzo pezzettino di qualcosa. Non ne ho idea. Ehi, Slayer! Non ho visto tu da quando abbiamo lasciato Farglow. Ah, Sep. Questo è il tuo solito luogo di lavoro? No! Io prendo il trasporto in Rivertown, normalmente. Ma non ho potuto andare qui da quando abbiamo fuori a una valle rompita. Vorrei prendere del civile per Aleroth. No, no, bugia, bugia, bugia. Mi rifiuto. Non volevo andare ad Aleroth. Non volevo... Porco, Giuda, guarda che sui pozzo ci sono già i morti appesi. Appunto. Era proprio quello che volevo evitare. Da ancora finire di esplorare quella zona. Che cazzo sta succedendo? Però corro in maniera educata, c'è da dire. Avrei immaginato gente che pestava altra gente. Comunque sono fatti malissimo questi due. Ma proprio malissimo. Non potete creare strategie difensive migliori che non darvi così a pesce morto. Posso tornare indietro, vi prego. Posso tornare indietro. Non mi sento minimamente pronto per questa zona. Voglio assolutamente in ogni forma tornare indietro. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma quello è roso. Eh dai, non essere così cattiva. Questo era tutto inaspettato. Io non dovevo prendere i vigili. La cosa che vedete prima di te è un dragone knight. E come così deve essere eseguitato in questo instante. È distrutto da l'academia per diventare uno di quei che ci guida. Un betrayer ha entrato... Bella, tra molte parentesi. Ora le strade devono essere cleansate in blood. Comandante, per favore calmiatevi. E tu, Slayer, come rispondi a queste charge? Ciò che mi viene imputato è vero. Sono un cavaliere drago. Qui, su richiesta dell'onorevole Zandalor per liberare Alaroth dal male. Ma non è Angarath. Ma non è Angarath. E io ho scoperto un'onorevole di scoprire tutta la sua raccoglione. Ho scoperto, comandante. E se io sopporto perdere la tua blada in battaglia, mi lasciai nessuna scoperta. I miei campioni? Arresti lei! E tu stai facendo un grave errore, Angarath. E come per te, discoperto, resti assurdo, ci saranno ancora. Non usci più alcuna stilità nei miei confronti. Chiedo che non ti troverò tanto male nella nostra prigione. ogni campione, te qui erano a braccio aperto. No, dai, facciamo un po' la persona sportiva. NEVER! Ho spero che ho fatto la vera decisione, Dragon Knight. Por favor, faccia tutto il tuo potere per salvare Alaroth. Puoi trovare il nostro lord e il master, General Augustus, nella città di upper città, dal ministro. Il apprezzerà la tua salute. Di questo ho sicuro. È troppo male che non si arriva a una combina. Ho solo spero che Rode si ritornerà nella sua città. Posso capire anche l'australità del nostro caro amico drago. Sì, voglio ritornare decisamente ai fiordi e sicuramente non è una zona che ci riguarda in questo esatto momento. Sto lasciando che mi hai fatto cadere giù. Ti dirò, ti dirò. Non so quali altri parti ti servono, però ogni modo credo sia anche l'ora di entrare nella sala dei campioni a vedere se hanno qualche ricompensa, qual... si voglia roba. Ok, salvataggio automatico, perfetto. È letteralmente un porto. Tutto qui, seriamente. Posso dirlo con totale tranquillità? Che tristezza, porco Giuda. Che tristezza. Almeno posso fare il doppio salto in questa zona. Buonasera a te, sbagliato. Cosa fa un capitano di porto? Cosa fa un capitano di porto? Molto produttivo. Parlami del porto. Oh, mi spiace, vecchio nostalgico. Cosa fa un capitano di porto? Cosa fa? È territorio del campion. Vuoi qualcosa? Per parlare agli uffici? Ma... Ma quella è Hermosa. Come ti... È... No... È morta, sì. È proprio morta. È andata. Catut. No, niente affatto. Ma hai la mia intenzione... Ora... Non hai la mia intenzione... Di tornare... e volevo restituirti questa. Ah... Ho sempre conosciuto... Non potrei essere capito... Aholdcare con la tantissime. Non credo che nessun uomo potrebbe. Ma è troppo un'amica... Non si può provare e lasciarmi subito così facile e si può E' un'altra storia Penso che lo vedrai ancora? E allora, per favore, diametelo questo libro Loro ha cercato perlo E l'ho trovato Buon giorno! però se lo usano non lo usa ottima coerenza non c'è mappa in questa zona ma è mai possibile e fare vanno maluccio immagino ma non c'è la verità e la verità è triste ma non dovrei comprare, almeno non sto in Alaroth scendendo giovani e altri monstri mondiali se i campioni non possono sfruttare l'attacco in basso, credo che la città sarà perdita sempre immediatamente, Slayer pozioni su pozioni è roba che non mi ha pregoncato, secondo me è strano perché in realtà ci sono più entrate del porto, quindi forse è diviso in sezioni però il fatto che non c'è una porco giuda di mappa della zona non mi conforta dal fatto che ho messo tutta questa intera zona aperta vuota perché è brutto la lettera con il sigillo dei campioni, leggiamo cosa dice capisco la tua preoccupazione e la tua smania di battaglia Aurelius ma non posso autorizzare un assalto in piena regola sebbene che costerebbe la vita moltissimi campioni e chissà quali strumenti di guerra a disposizione sva di fari sva di fari sva di fari sta diventando potente, troppo tedente, questo lo so sospetto che ci siano dietro gli intrighi dell'anello nero ma non voglio rivedere il mio sospetto ma non voglio rivelare il mio sospetto agli altri ufficiali in fondo è solo un'impressione forse quando la carestia di città del fiume sarà finita e l'ordo nubus sarà nuovamente riscognibile i campioni e il cercatorio diranno le forze per ripulire i fiordi dalla pestilenza delle tribù e il martello rosso ok oro oro e formule quindi almeno posso fare il doppio salto mi sento moncato senza il doppio salto vabbè io non ti prego qui che pensavi ma che cazzo dai ma che cazzo dai ma che cazzo dai che i campioni di questa fortuna potrebbero offrire un piacere più benvenuto io che assaporavo già un piatto di maiale rosso e un grosso boccale di birra che assaporavo tu e me due ma noi solo fecchiamo quando i nostri problemi hanno stato alleviato trecento non ci dice nulla i suoni dei guerri di guerri di guerra hanno di tempo giocato molti soldi in un po' semplice la notte e il giorno questo vero vero ha anche avuto la tendenza per attaccare la fortuna e l'arborso qui tutto perché i loro leader Fad el Fari ha trovato necessario per consigliare la distruzione di tutto ciò che è umano nelle fiori orabas e tutto questo è iniziato solo di recerta è davvero così i goblini hanno sempre stato sbagliati ma conosciuto meglio di noi fino a Svad el Fari che l'hanno tornato tutti che è così il prezzo sul suo cuore è non meno che un coperto pieno pieno di gold la maggior bonti che è mai stato per essere dato dai campioni che significa se mi dovessi trovare dalle ose parti rimanerò ciò che trovo sopra il suo colace nel senso di tagli la testa I'll be thankful if you do you'll have to fight the entire village to get to him though still I do hope you'll succeed dimmi di più su Svad el Fari he's a powerful goblins shaman and chieftain of the red hammer clan leader so devious and cunning always poses a big threat but normally goblins are too unruly to wage organized warfare this is the exact reason we never had more than skirmishes with them before but that changed quite abruptly they built catapults able to take down our zeppelins weapons we never knew they were capable of constructing ah ecco come attaccato il dirigebile that's why we were caught off guard when their attack came a disastrous hour for the champions if ever there was one I am yes of the harbor at least I'm in charge of the squadrons that guard the fjords be they zeppelin based or on foot we protect travelers and merchants as they head for broken valley or fly to rivetal it used to be a relatively cushy line of work out of the city and in the beautiful wild but lately I feel I've aged more in a month than in five years effettivamente magari un po' vecchio colosei goblins, trolls, wyverns it's like they're all under the influence of a greater force I'll be damned if I know what is really going on buongiorno capitano buongiorno capitano libro delle statistiche in che senso libro delle statistiche no scusami sono scemo o non l'abbiamo preso è un consumabile questo lo uso ah delle statistiche perchè mi aumenta questa è giusto ma porca troia pensavo fosse un libro un po' diverso mi porti vita di tanto ok ci serve una chiave diamo un'occhiata qui sopra già vedo qualcosa di sbellucicoso e mi piace chiave vedete che apre quella cassa di prima no perchè l'hai preso nulla di utile andiamo a riaprire quella cassa ok un manichino vediamo una cosa fai che cazzo è sta roba quindi riapriamo il manichino cioè riapriamo il manichino riapriamo il coso piccola di drago in maglie di ferro robetta non particolarmente interessante ma robetta insomma ora dirigiamoci verso il nostro amico bere tutto in cibo è sempre interessante no che bello trovate tutte queste cose perche' hanno mandito i uomini? ma evidentemente è anche questo tutto a posto tenente ho già sbrigato una questione una cosa meno di preoccupare però è stato il meno di problemi di Alaroth ebbè effettivamente quindi come sono Quintus e i suoi uomini? laveranno sangue di troll dei capelli per un po' a parte questo è tutto a posto rilassato 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 sui uomini e probabilmente si nasconde nelle groglie halutic l'occhio tiranno infestazione della vecchia miniera ciove dollari trovata truffatori di catà come infarsi infarsi grammi valutare civica 1200 dove ho lasciato il mio stascio di nuovo? in quel corno tra i grandi muscoli, potrebbe sicuro c'è vedi quella piazza qua sulle descrizioni delle più grandi fiori con tutte le grandi problemi qui non possiamo spargare gli uccelli per organizzare i hunt ma senti libero di dare questi crooks se volete splendido sicuramente avvicinai questo gold portami più di questi crooks e il money continuerà a continuare nessun successo attraverso il ragon splendido portami più di questi per la stessa cosa fondamentalmente ehm ti dirò ti dirò sarebbero interessanti il problema è che noi abbiamo già delle... già abbiamo delle... quale sarebbero braccia da guerriero noi abbiamo il nostro piccolo necromante bestia necromanti che invece è un mago questa ascia come si mantiene per curiosità cioè se qui stanno i pioli dovrebbe stare più sopra ma vabbè ho ucciso aluti ok ok tagliate di netto questi invece sono interessanti si ragazzi si ragazzi vedete non è appeso a nulla vedete questa scella di penne cioè sopra ci sono i ganci e come così è giù vabbè nel mentre saliamo di livello dando uno due uno due che era anche ora abilità emorragia dai così fatto ciò li che ci dirigiamo verso l'entrata principale ah ma tu sei un uomo non sei un manichino un fabbro è un uomo importante da avere in giro sicuramente è quello ha 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 specialmente con quei goblini che riuscano ammoc ma... Alarov ora c'è qualcosa che non posso aiutare i campioni con scoprire, scoprire, matare un ghost come ti mati qualcosa che è già morto eh ti chiedi questo slayer non è vero è vero non mi interessa due mani due due a una mano na ancora na e ancora na armature vendi qualcosa di interessante decisamente na che tristezza immaginavo qualcosa di veramente ottimo invece nulla di che tre due due magica più sei magica però quello è il più cinque corazzo del mischio quindi ci teniamo quello d'araldo della notte bla 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 nulla di interessante mi reprista ma ormai dobbiamo solo andare alla ricerca di pezzi unici tu mi dici qualcosa? ah un slayer qualche non la diga mi dico scoprire solo i campioni potrebbero entrare la propria e allora che cazzo di senso ha tutta questa zona cioè mi ha costruito questa enorme zona giusto per darmi due missioni fondamentalmente metterci cioè due missioni due mercanti e le taglie fine molto ed estremamente triste ecco da quanto tempo non ero sovraccarico onestamente da veramente un bel po' cazzo ma noi basta che facciamo così perché troia non è proprio un basta che facciamo così in ogni caso signori sono costretto a mettervi che il tempo tiranno ci becchiamo nel prossimo episodio